Lavoriamo per questo, lo facciamo perché ci crediamo. Abbiamo la volontà e le tecnologie per arginare il problema, non agire subito sarebbe una follia. È il grido d'allarme, quello lanciato dal candidato al Consiglio regionale Gianluca Carrabs, che domenica, insieme ai candidati della lista Rinascimar, che mangialardi presidente, formata da Verdi, Civici e Più Europa, ha presentato il progetto Liberiamo il mare dalla plastica. L'iniziativa si è svolta a Fiorenzuola di Focara, nel cuore del Parco Naturale San Bartolo. La plastica è entrata nella nostra catena alimentare, voglio ricordare a chi ci ascolta che noi ingeriamo 5 grammi di plastica alla settimana, quindi dobbiamo invertire questa tendenza e lo dobbiamo fare con delle buone pratiche. Siamo qui a presentare un progetto pilota perché vorremmo che il Parco potesse realizzare un marchio di qualità per censire questi allevamenti di mitili che sono qui a largo di Fiorenzuola di Focara per utilizzare loro delle calze di plastica biodegradabili e non quelle di plastica come abbiamo visto sul tavolo oggi, che sono quelle che poi si riversano sulle spiagge e che troviamo in mare. Le marche sono plastic free, ha continuato Carrabs. Sono state la prima regione in Italia ad aver recepito la direttiva europea per il divieto delle plastiche monouso. Adesso dobbiamo passare ad un'azione concreta, ad esempio dotando i porti di Fano e Pesaro con delle piattaforme per la raccolta di rifiuti a servizio della marineria. Inoltre, ha concluso il candidato, è necessario eliminare la plastica dagli allevamenti di mitili utilizzando le calze biodegradabili. Io come candidato di Ancona, Gianluca Carrabs come candidato di Pesaro Urbino siamo andati sulle nostre spiagge marchigiane a raccogliere chili e chili, centinaia di chili in pochi metri quadrati di plastiche e microplastiche. Il turismo ovviamente risente positivamente di un ambiente curato e tutelato, lo vediamo qui nel parco del San Bartolo oggi. In secondo luogo, noi tutte quelle plastiche ce le mangiamo, finiscono nella nostra pancia. Dicevamo poco fa come ci mangiamo l'equivalente di una carta di credito a settimana senza aggiungere poi chili e chili di pesticidi che ingeriamo. Perché? Perché ovviamente quelle plastiche finiscono in mare, vengono mangiate dai pesci. Alcune, le nanoplastiche, vengono assorbite dalle radici delle piante, nelle verdure, nel pesce e in tutto il resto che compriamo nelle nostre botteghe, nei nostri negozi, nei mercati e nei supermercati. Con piccole attenzioni quotidiane, nell'arco di un anno, il nostro ambiente potrà essere migliorato tantissimo. Presenti in conferenza anche Massimiliano Bianchini, coordinatore regionale dei civici per Rinasci Marche e Angelo Bonelli, coordinatore nazionale dei Verdi. Con la lista Rinasci Marche, dove c'è una forte presenza dei Verdi, lanciamo questo progetto, questa proposta al Parlamento, per salvare il mare dalla plastica e salvare conseguentemente la salute e la catena alimentare di tutti noi.